So già cosa stai pensando, un altro video clickbait E invece no ragazzoni, guardate tutto il video fino alla fine per scoprire come ricevere in questa stagione numero 2 di Fortnite La skin Deadpool Metti like entro i prossimi 5 secondi se anche tu vuoi ricevere la skin Deadpool in modo gratuito Orca mila orca a tutti e benvenuti in un nuovissimo video di Fortnite Con il mio cane in sottofondo webcam Vi dico che oggi vi mostrerò come avete letto dal titolo, visto dall'intro e dalla miniatura Come ottenere la skin Deadpool in modo totalmente gratuito ovviamente In pratica questa skin Deadpool verrà data ai giocatori una volta che completeranno le sfide di Deadpool Come si fa a completare le sfide per ottenere questa skin in modo completamente gratuito Ragazzoni vi dico subito senza perderci in chiacchiere Tra l'altro devo farle anche io queste missioni quindi le faremo in diretta Innanzitutto ragazzoni ci andiamo ad acquistare il grandissimo pass battaglia Perché si lo dobbiamo acquistare ragazzoni È uscito da 4 giorni la stagione numero 2 e io ancora non ho acquistato il pass battaglia ragazzoni Quindi let's go Confermiamo l'acquisto col codice Lucius mi raccomando raga eh Ed eccolo qua pass battaglia sbloccato Io in questo caso voglio assolutissimamente arrivare fino alla skin di Mida raga Perché è una figata trasforma le armi in oro Una vera figata Ma comunque ragazzoni Che cosa bisognerà fare raga per ottenere questa skin in modo completamente gratuito Ragazzoni innanzitutto qui sulla parte destra alta dello schermo Vedete che ci sono due sportelli Uno è il magazzino potenziamenti dove potrete creare la vostra skin Mentre un altro è con il punto di domanda Perché ragazzoni se noi andremo a cliccarci guardate un pochino dove ci porta Questa raga è la camera segreta di Deadpool Come potete vedere qui coperto in questo caso dal mio supporto a un creatore Mi raccomando ragazzoni supportatemi come creatore nello shop Lucius Perché quasi ogni giorno cerco di giocare con tutti quelli che mi supportano come creatore Che mi mandano la foto sul mio account Instagram Quindi ragazzoni codice creatore Lucius nel negozio oggetti di Fortnite Come potete vedere qui abbiamo il calzino di Deadpool Abbiamo altri calzini qui per terra Abbiamo una mutandina e un'altra mutandina qui nella lavatrice E il logo Avengers ragazzoni Quindi si capisce un pochino che è la camera di Deadpool Innanzitutto per ottenere questa skin in modo completamente gratuito Dovrete innanzitutto avere il pass battaglia su questo Non ci piove purtroppo Però raga per secondo dovrete completare delle sfide Che sono state rilasciate all'aggiornamento della stagione numero 2 di Fortnite E dopo l'acquisto del pass battaglia Raga cliccando sul computer di Deadpool Guardate un pochino che cosa appare Innanzitutto qui dotiamo 4 cartelle Ovviamente la cartella che ci servirà è proprio questa qui Delle sfide in basso a sinistra Cliccando su questa cartella Guardate un pochino che cosa ci esce Sfide settimanali di Deadpool Obiettivi settimana 1 Perché ci saranno varie settimane E ogni settimana bisognerà cercare di completare la sfida Che ci proporrà queste sfide settimanali di Deadpool Basta far casino Vabbè comunque ragazzone a parte la gente che continua a far rumore O che continua a invitarmi Guardate un pochino che cosa bisognerà fare Per innanzitutto avere la skin Deadpool Come vi stavo dicendo prima dovremo ogni settimana Completare le sfide settimanali che Deadpool ci chiederà In questo caso la prima missione di questa settimana numero 1 E' proprio questa Trova la lettera di Deadpool a Epic Games E come trovare questa lettera di Deadpool a Epic Games Semplicemente qui in basso a sinistra Di fianco agli FPS E di fianco a questo inalatore del vapore Insomma quello che si usa per asciugare le mani Tutto sporco C'è proprio un titolo con scritto lettera a Epic Noi basterà che semplicemente la clicchiamo E qua ci dice Caro Fortnite ho ideato un nuovo design per il boost della battaglia Ho scommesso con i miei amici Che se non avessi inserito questo nella scorsa stagione del gioco Avrei dato via il mio braccio buono Per favore dite che arti d'artista sono a rischio E che va aggiunto immediatamente il tuo miglior amico Wade E quindi ragazzone ci sarà anche un cambio di design Nel boost della battaglia Come possiamo notare qui Ma in questo caso non ci interessa il design Perché qui abbiamo completato la prima sfida La seconda che ci chiederà Deadpool E' proprio questa Non ringraziare l'autista del boost Una roba abbastanza strana Ma ragazzuoli andiamo in partita e vi mostro come fare Quindi raga dovremo semplicemente andare in una partita normalissima E prima di buttarci non ringraziare l'autista Vi ricordo però ragazzuoli intanto di lasciare un bel pollicione nell'insù Di supportarmi come creatore nello shop con il codice Lucius che ogni giorno cerco di giocare con tutti quelli che mi supportano come creatore Seguitemi su Instagram perché lì vi dovete mandare la foto e dopo io vi prendo da lì Condividete il video con tutti i vostri amici Iscrivetevi e attivate la campanellina Commentate se volete altri video del genere Fatemi sapere che cosa vorreste come altri video di Fortnite E niente ragazzuoli andiamo a non salutare l'autista del boost Perfetto ragazzuoli eccoci qui sul battle boost In teoria se io adesso mi busso guardate un pochino E niente ragazzuoli avete completato anche la seconda sfida che ci richiedeva Deadpool Guardate un pochino appena acquittiamo che cosa succede E ecco qui ragazzuoli vi danno una volta che avete completato questa missione Lo standardo Deadpool che non è niente male ma comunque è il primo passo per avere la skin Deadpool In modo totalmente gratuito perché questa sarà la skin segreta di questa stagione Numero 2 Quindi ragazzuoli abbiamo finito Io spero che questo video vi sia piaciuto Praticamente raga dovremmo semplicemente ora aspettare che Deadpool ci dia altre sfide da fare Perché è uscita solo la prima settimana ragazzuoli E vi porterò le sfide raga quindi state sintonizzati Quindi una volta che completeremo credo fino alla settimana numero 8 Riceveremo la skin in modo completamente gratuito E niente ragazzuoli spero che questo video vi sia piaciuto Se così è stato lasciate un bel pollicione lì in su Condividete il video con tutti i vostri amici codici creatori e lucius del negozio Oggetti di Fortnite Taggatemi su Instagram che oltre a giocare con voi vi è riposto E niente boys un cammino a tutti Ci vediamo al prossimo video Baralive Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti